era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come odì, che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù, «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse, «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta, «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse, «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose, «Sì, oh Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, ed inascosto le disse, «Il Maestro è qui e ti chiamo». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andato incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli, «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò, «Dove l'avete posto?». Gli dissero, «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei, «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero, «Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva far sì che costui non morisse». Allora Gesù, ancora una volta, commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù, «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto, «Signore, manda già cattivo odore, è lì da quattro giorni». Le disse Gesù, «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?». Tolselo dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse, «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce, «Lazzaro, vieni fuori». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro, «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto credettero in Lui. Buonasera. Innanzitutto il mio saluto al fratello Vescovo dell'Arcidiocesi di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo. Un saluto ai frati Capuccini, al padre Guardiano e a tutta la comunità dei frati Capuccini di San Giovanni Rotondo e un saluto a tutti voi, cari amici, che seguite questa volta da casa queste catechesi. Avrei dovuto essere nel santuario Madonna delle Grazie di San Giovanni Rotondo per la catechesi, già come ebbi la gioia di farlo lo scorso anno, ma le situazioni di ristrettezza, di sofferenza, di angoscia che stiamo vivendo non permettono questo. E allora ecco, vi raggiungo anche nei vostri luoghi, nei luoghi dove vivete, e io vi trasmetto questa catechesi dal mio luogo di residenza, questa cappella dell'Episcopio di Tricarico. E veniamo a quello che è il tema che accompagna il nostro cammino di fede in questa quinta domenica di Quaresima. Siamo alla tappa, diciamo alla terza tappa, perché nelle ultime tre domeniche abbiamo fatto tappa al Pozzo di Sicar insieme con la Samaritana, abbiamo fatto tappa alla piscina di Siloe domenica scorsa con il cieco nato, questa volta facciamo tappa a Betania presso la tomba di Lazzaro. In realtà queste tappe hanno segnato un percorso, un cammino. Gesù si è fatto conoscere innanzitutto come l'acqua viva, colui che disseta il bisogno di verità del cuore dell'uomo, poi come la luce vera che illumina ogni uomo che viene in questo mondo e che non vuole brancolare nel buio delle tenebre. E Giovanni poi nel prologo al suo Vangelo ci aveva detto che in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini e questo è il messaggio di questa quinta domenica di Quaresima, preludio all'ingresso nella grande settimana, il passaggio dalla morte alla vita. E quindi la liturgia vuole fin da questa domenica proiettarci all'evento della Pasqua che si fa sempre più vicino. La Resurrezione appare nei testi della liturgia di questa domenica innanzitutto come un evento storico. La prima lettura fa riferimento all'Israele che giace nella morte dell'esilio di Babilonia. In questa situazione di morte, di oscurità, di tenebre, Dio annuncia la Resurrezione a Israele, il ritorno dall'esilio, aprirò i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle tombe, vi procuro una nuova possibilità di vita. Dunque la Resurrezione è come un evento, un fatto storico e del resto penso che questo messaggio possa raggiungere anche noi, anche noi che soprattutto in questa circostanza ma anche in tante altre circostanze della vita ci troviamo a vivere l'esperienza della tomba a noi viene detto vi faccio uscire apro le vostre tombe ma la Resurrezione viene presentata anche nella seconda lettura della liturgia della quinta domenica come un evento spirituale il credente che si lascia dominare dalla carne e dal mondo è morto se invece il credente si apre allo spirito di Dio passa dalla morte alla vita dall'egoismo all'amore e mi sembra che anche questa sia un'esperienza che spesso caratterizza il nostro vissuto noi viviamo tante esperienze interiori di morte nelle relazioni lo stiamo facendo anche in questo periodo ma sostanzialmente ci sono tanti di questi momenti che viviamo nella nostra vita e poi si arriva al diciamo al culmine del messaggio di questa domenica nel brano del Vangelo di Giovanni l'evento della resurrezione come momento personale corporeo è l'esperienza di Lazzaro il quale esce dal sepolcro ascoltando il grido della vita il grido che Gesù lancia in sua direzione l'attenzione è certamente proprio su questo brano e su questo brano che vorrei condividere con voi alcune alcune riflessioni cercheremo di cogliere qualche passaggio che possa illuminare anche il momento travagliato attuale che stiamo vivendo partirei subito dalla notizia che viene fatta arrivare a Gesù Signore ecco colui che tu ami è malato Giovanni ha detto prima che si era ammalato un certo Lazzaro fratello di Marta di Maria abitante a Betania laddove Gesù spesso andava ecco viene bandata la notizia Signore colui che tu ami è malato e allora noi ci chiediamo si ammalano anche gli amici di Cristo muoiono anche gli amici di Cristo non hanno una speciale tutela non sono esenti dalla malattia e dalla morte no si ammalano e muoiono anche gli amici di Cristo anzi dobbiamo notare che c'è una curiosa reazione di Gesù a questa notizia quando gli viene data la notizia che l'amico Lazzaro è malato Gesù reagisce in maniera strana non corre a Betania magari poteva anche arrivare in tempo per salvare Lazzaro non l'avrebbe fatto morire infatti qualcuno quando Gesù arriverà a Betania dirà ma lui che aveva aperto gli occhi al cieco non poteva fare sì che Lazzaro non morisse e invece no Gesù ha presa la notizia si ferma due giorni la dovera che senso ha questo comportamento beh questo ci offre una indicazione precisa dice Gesù agli apostoli che sono anch'essi sorpresi da questo suo modo di fare questa malattia la malattia di Lazzaro non porterà alla morte ma è per la gloria di Dio a noi suonano strane queste parole ma in realtà se ci soffermiamo a riflettere ci sono delle malattie delle esperienze delle esperienze di sofferenza di morte delle sofferenze complesse nella nostra vita che sono non un'occasione di morte ma l'occasione per un incontro nuovo e profondo con Cristo della serie che dovremmo dire non tutte le malattie e le esperienze negative che noi mettiamo sotto questa immagine vengono per nuocere ci sono momenti di sofferenza che possono servire a una profonda revisione della nostra vita il fatto che Gesù ci ami è indiscutibile ma questo fatto non significa che Gesù soddisfi subito le nostre attese e quello che noi desideriamo l'attesa di chi ha portato la notizia a Gesù della morte di Lazzaro è che Cristo immediatamente arrivi e faccia il miracolo Gesù si rifiuta non lo fa prende tempo non soddisfa le attese i bisogni ma mantiene le promesse la promessa di Dio è la vita a chi ama e questo non verrà meno e per fare questo Gesù dona a se stesso ecco perché questo episodio è un preludio alla morte e alla resurrezione di Cristo Cristo la vita la promessa e la donerà e la donerà in maniera totale attraverso di Lui quindi la morte corporale è certa ma questo non significa che Dio ci lascia sprofondare nel nulla non significa che Dio lascia che la nostra che come diciamo nel Salmo che il suo eletto veda la corruzione del sepolcro non lo lascia nel sepolcro questo avverrà per Cristo e questo avviene per noi è un riposo infatti Gesù dice Lazzaro è morto e noi andiamo a svegliarlo Lazzaro il nostro amico si è addormentato io vado a svegliarlo il male più grande non è la morte corporale non è la morte del corpo quella morte che Francesco d'Assisi avrà il coraggio di chiamare sorella nostra morte corporale il guaio più grande è la morte spirituale la separazione da Dio si può essere fisicamente vivi e spiritualmente morti però meglio morire da vivi che vivere da morti questo è un'esperienza forse importante che va sussurrata all'orecchio degli uomini e delle donne del nostro tempo che spesso si abbandonano a situazioni anche interiori di coscienza che praticamente sono dei potenti sonniferi che addormentando la vita di ogni giorno ci fanno vivere in maniera poco rilevante un altro passaggio importante è l'incontro tra Gesù e Marta quando Gesù decide di andare a Betania arriva la notizia a Marta Marta si alza e va incontro a Gesù all'arrivo di Gesù a Betania Lazzaro è già da quattro giorni nel sepolcro perché questa sottolineatura quattro giorni cioè per dire che è morto veramente dopo quattro giorni la persona è scientificamente morta e allora non c'è dubbio che Lazzaro è morto ci tiene questo a sottolineare Giovanni e allora in quel momento Gesù arriva a Betania e Marta gli va incontro forse dobbiamo notare in questo caso la differenza della figura di Marta così come ci è raccontata nel Vangelo di Luca al capitolo 10 famoso episodio di Marta e Maria dove Marta si lamenta con Gesù che la sorella l'ha lasciato solo a servire e lei se ne sta ai piedi di Gesù e Marta avrà quel rimprovero ma un rimprovero amorevole da parte di Gesù Marta Marta tu ti agiti ti preoccupi per tante cose Maria si è scelta la parte migliore vedi anche di orientare meglio la tua vita e questa volta Marta ha capito la lezione vai incontro lei a Gesù scatta va incontro anche lei come Maria lo considera la cosa importante la parte migliore diremmo che la lezione servita a Marta sembra vivere un processo di fede più dinamico sembra che il suo il suo essere presa dai mille servizi si è aperta la relazione con la con la con la persona più importante certo anche lei però in questo cammino di fede in questo cammino di revisione sembra essersi rassegnata alla morte infatti appena Gesù arriva lei accenna un lamento una lamentela se fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto ecco lei è scossa dalla morte del fratello ma anche dall'assenza di Gesù ma tuttavia sembra rassegnata questa morte però so che qualsiasi cosa chiederai al Signore egli te la darà allora vedete l'apertura di Marta l'apertura Marta ha maturato l'importanza della persona di Gesù è maturata la sua relazione con Gesù però adesso lei è capace anche di cogliere in Gesù qualcosa che va al di là della sua presenza fisica Marta è sicura che il rapporto unico che c'è tra lei e Gesù è un rapporto aperto a Dio perché dopo quel rimprovero se fossi stato qui dice ma comunque lo so che qualsiasi cosa chiederai a Dio egli te la darà Marta arriva sulla soglia del mistero arriva a cogliere questa questa relazione profonda tra Gesù e Dio aderisce a questa relazione con Cristo e si apre alla relazione col Padre Marta è veramente qui sulla soglia del mistero intuisce il valore del Padre intuisce l'amore di Cristo e intuisce che il Padre e Cristo sono una cosa sola e dunque quasi quasi si apre alla contemplazione delle relazioni trinitarie e Gesù gli dice tuo fratello risorgerà qui ancora Marta non ha maturato pienamente la sua fede infatti dice sì sì lo so secondo quello che è la religione dei nostri padri so che risusciterà nell'ultimo giorno no no non mi riferisco a questo dice Gesù quella è l'orizzonte ma la rivelazione la verità qual è io sono la risurrezione e la vita chi crede in me anche se muore e chiunque vive crede in me non morirà in eterno credi questo? allora non solo un orizzonte futuro ma nell'oggi della vita io sono la risurrezione Gesù ha colto l'apertura di Marta come ha colto l'apertura della Samaritana l'apertura del Cieconato e in quello spiraglio entra per poter cambiare la vita di Marta così come ha cambiato anche la vita della Samaritana e del Cieconato e piano piano si alzerà il velo sul mistero di Dio e sulla persona e sulla persona di Gesù infatti gradualmente anche in questo caso come nel caso della Samaritana e del Cieconato nel discorso tra Gesù e Marta noi vediamo che gradualmente Marta modifica il suo pensiero su Gesù all'inizio lo considera solo un mediatore davanti a Dio lo so qualunque cosa Dio ti chiederà te la darà ma poi piano piano Gesù la prende per mano e la conduce alla verità Cristo non è soltanto un mediatore è la vita è la Resurrezione e perciò gli dice credi questo? Sì io credo come la Samaritana come il Cieconato anche Marta arriva alla sua professione di fede allora la nostra domanda è come si partecipa alla Resurrezione come si partecipa alla vita vera attraverso il credere è la fede che ci apre a questa realtà senza il credere per noi Cristo può essere un grande mediatore tra Dio e gli uomini può essere qualcuno che ci dà speranza può essere un grande profeta ma non è la vita non è la Resurrezione la fede ci introduce in questa verità e permettetemi di sottolineare due passaggi di questo brano del Vangelo che sono importanti Giovanni dice che quando Gesù si trova davanti alla tomba di Lazzaro scoppiò in pianto le lacrime le lacrime di Cristo sono un misto di amore e di rabbia di amore infatti quelli che stavano intorno diranno guardate come gli voleva bene sta piangendo ma il pianto di Gesù esprime detto con una parola tecnica la tarassia non la atarassia la tarassia l'imperturbabilità degli stoici era quell'atteggiamento che diceva i personaggi grandi che non dovevano commuoversi davanti anche alla morte no no Gesù non cade in questa costrizione lui si commuove non è imperturbabile si turba si turbò profondamente le sue lacrime non esprimono l'impotenza davanti al dolore ma la potenza d'amore è il pianto di Dio che ama veramente l'uomo e non vuole vederlo perso e non vuole che vada perduta tutta questa relazione d'amore quindi quel pianto in questi giorni il pianto di Gesù in questi giorni per noi può diventare un'immagine consolante forse noi anche noi questi giorni ci siamo chiesti come avviene nelle tante esperienze negative che hanno accompagnato la vita dell'uomo dove è Dio nella situazione di sofferenza di morte di ristrettezza piange piange di rabbia e piange d'amore piange di rabbia perché c'è la rivolta del cuore di Dio nei confronti della morte della sofferenza non è vero che Dio ci vuole addomesticare in maniera tale che noi abbracciamo nemmeno lui l'ha abbracciata la sofferenza nell'orto degli olivi ha detto padre se è possibile passi da me questo calice comunque sia fatta la tua volontà quel calice amaro ma di amore io sono pronto a berlo e quindi il grido e il pianto soprattutto il pianto di Gesù ci apre alla sua vicinanza alla sua compartecipazione e poi il grido davanti alla tomba tolta la pietra Gesù grida Lazzaro vieni fuori lo stesso verbo che Giovanni usa per dire del grido di Gesù lo userà quando parlerà della folla che gridava e urlava crocifiggilo crocifiggilo che contrasto il grido della folla è un grido di morte il grido di Cristo è un grido di vita e di ribellione alla morte è il grido dell'indignazione di Dio di fronte alla morte e allora deve essere chiaro questo per noi Dio non ci chiede di abituarci alla morte Dio non ci chiede di sopportare la morte Dio non ci chiede di addolcire la morte questi verbi abituarci sopportare addolcire sono tutti i verbi che accompagnano l'atteggiamento che anche il nostro tempo la nostra cultura ha nei confronti della morte una una malintesa voglia di abituarci di sopportare di addolcire no no Dio non vuole questo Egli combatte la morte ha vinto la morte ci fa passare dalla morte alla vita questa è la differenza grande del cristianesimo il cristianesimo non insegna ad abituarci alla morte a rassegnarci alla morte come ci salva Dio come ci salva Cristo attraverso la sua incarnazione la sua passione e la sua risurrezione compito allora del cristianesimo non è aiutarci a morire non è l'aiuto che può fornire agli uomini per capire la morte per comprendere la morte per digerire la morte no no il compito del cristianesimo è offrire la verità rivelare la verità della vita e della morte perché si salvino gli uomini è necessario che si aprano a questa verità e la verità non è un teorema non è una teoria è un volto Gesù Cristo allora il compito del cristianesimo è aprire la vita e la morte al mistero di Cristo oggi cerchiamo più aiuto che verità oggi oggi ci sforziamo più di aiutare a morire oggi ci sforziamo più di camuffare la morte sono le schizofrenie della cultura del nostro tempo da una parte vogliamo aiutare a morire dall'altra parte camuffiamo dall'altra parte rendiamo la morte quasi cinematografica e spettacolare ma il risultato di tutto questo è che tante volte anche nella nostra vita a fianco a fianco dei nostri percorsi troviamo tante persone che sembrano cadaveri entusiasti cadaveri entusiasti di vivere una vita spenta ma che è una vita in nome del progresso della tecnologia della scienza ad ogni costo però a volte non ci chiediamo ma quale progresso ma quale ma a che prezzo ma quale tecnologia veramente è in grado di salvarci è in grado di offrire delle soluzioni secondo la verità delle scienze della tecnologia ma la salvezza dell'uomo la vitalità dell'uomo la vita vera dell'uomo è nelle mani di Dio e forse proprio in questi giorni questa semplice verità al limite della banalità va ribadita la vita degli uomini è nelle mani di Dio e questo Dio che non vuole assolutamente la morte questo Dio che vuole la vita e allora solo in Cristo ci è rivelata la pienezza della vita lui con la sua morte ha calpestato la morte lui ci ha aperto definitivamente le strade della vita e allora vorrei concludere con un testo che poi è una preghiera di Sant'Agostino che mi sembra possa accompagnarci anche nel cammino che facciamo verso la Pasqua scusate Sant'Ambrogio non Sant'Agostino Sant'Ambrogio possa tu Signore degnarti di venire a questa mia tomba di lavarmi con le tue lacrime poiché nei miei occhi inariditi non ne ho tante da poter lavare le mie colpe se piangerai per me sarò salvo se sarò degno delle tue lacrime cancellerò il fetore di tutti i miei peccati se sarò degno che tu pianga qualche istante per me mi chiamerai dalla tomba di questo corpo e dirai vieni fuori perché i miei pensieri non restino nello spazio ristretto di questo corpo ma escano incontro a Cristo e vivano alla luce perché non pensi alle opere delle tenebre ma a quelle della luce quandounque stretto nel vincolo dei miei peccati io abbia avvinti i piedi legati le mani e sia ormai sepolto nei miei pensieri e nelle opere di morte alla tua chiamata uscirò libero e diverrò uno dei commensali nel tuo convito e la tua casa si riempirà di prezioso profumo se custodirai ciò che ti sei degnato di redimere con queste parole di Sant'Ambrogio vogliamo veramente augurarci che questo tempo segnato dalla sofferenza e dalla morte si apra alla gioia e all'alleluia della risurrezione e tutti quanti ritorniamo a quel convito d'amore che è l'Eucarestia per tornare a sentire il profumo di Cristo che accompagna i passi della nostra vita un caro saluto e una buona serata a tutti quanti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti